Grande fratello. Alfonso Signorini scioccato. La notizia shock di Letizia Petris. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like, e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Letizia. Una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita durante una conversazione con Sergio. Un nuovo arrivato nel reality show. Le telecamere onnipresenti della casa hanno catturato il momento in cui Letizia ha aperto il suo cuore a Sergio, confessandogli i progetti che ha per il futuro una volta fuori dalla casa. La ragazza. Il cui passato è stato segnato da relazioni complesse. Ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile. Con una relazione tormentata con una donna e un complicato rapporto con suo padre. Rimpiangendo il tempo per ristabilire la serenità fra di loro. Attualmente, Letizia sembra essere felicemente innamorata di Paolo. Tanto che ha dichiarato di abbandonare il gioco se lui fosse stato eliminato nell'ultima sfida. Tuttavia, la rivelazione più significativa è stata fatta a Sergio nel giardino. Letizia ha manifestato l'intenzione di chiarire le questioni irrisolte con il suo ex fidanzato una volta uscita dalla casa. La sua vita amorosa è stata segnata da complicazioni. In particolare quando, anni fa, si avvicinò a una ragazza. Ma la relazione provocò la disapprovazione del padre. Portando alla fine della storia e causandole grande dolore. In seguito, Letizia ha preso consapevolezza del suo orientamento etero. Avendo relazioni con uomini. Ma anche queste sono state complesse e un ex in particolare sembra aver lasciato questioni irrisolte. Nonostante il passato travagliato, Letizia ha trovato ora la felicità accanto a Paolo. Un ragazzo che la sostiene sempre e si mostra molto protettivo nei suoi confronti. La concorrente sembra aver superato le difficoltà del passato. Guardando ora con ottimismo verso il futuro. Lascia un commento alla fine del video e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.